Maria si era turbata alle parole dell'angelo. Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ma l'angelo la rassicurò. Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio, lo darai la luce e lo chiamerai Gesù. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Alla replica di Maria, come è possibile? L'angelo aveva risposto che, per un intervento speciale dello Spirito Santo, avrebbe concepito quel figlio e sarebbe diventata madre del Messia. Benché Maria non comprendesse fino in fondo ciò che stava accadendo in lei, si fidò di Dio e la sua risposta fu, eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga in me quello che hai detto. Questo fu senz'altro il momento in cui Maria espresse la più alta disponibilità. Si avventurava in un mistero di cui non poteva conoscere tutte le conseguenze. Conosceva però l'amore e l'onnipotenza di Dio. Preghiamo. Grazie, Maria, per il tuo sì, che ha cambiato la storia del mondo. Di fronte a questo avvenimento non ti smarrisci. Rifletti, interroghi, rispondi. Sai che tutto è possibile a Dio, perciò ti rendi del tutto disponibile a Lui. Ciò che conta per te è ciò che conta per Dio e dici, eccomi. Così il figlio di Dio incomincia a vivere in te, a farsi uomo nel tuo grembo. Più che mai il tuo amore cresce, esprimendosi in un servizio amoroso e adorante di tutto il tuo essere per il figlio di Dio, che diventa anche figlio tuo. Corpo e spirito, pensieri e azioni sono decisamente orientati a Lui. Tu non sei che la sua umile serva. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, donna di Nazareth e Madre del Signore, prega per noi e per il mondo intero.